Il Consiglio regionale ha approvato una legge per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali. Un documento tecnico di valutazione dei rischi definirà i dettagli per formazioni obbligatorie a carico delle imprese, monitoraggio, controllo e prevenzione in materia di sicurezza. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi, dibattito in aula tra critiche e posizioni a favore. La sicurezza, la formazione, il controllo e la rappresentanza sindacale. La Toscana apre i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza con il voto di astensione del gruppo della Lega. Proposta dal Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, primo firmatare del testo a cui si è aggiunta la firma anche di Diego Petrucci, la norma prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi che la Giunta approva con apposita delibera come base per impostare le forme di tutela necessarie. Tra queste anche la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, con particolare attenzione al codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato. Le imprese dovranno inoltre fornire dispositivi di sicurezza, abbigliamento consono allo svolgimento delle prestazioni, tenendo conto di turni notturni e condizioni atmosferiche avverse. Si dovrà inoltre promuovere l'istituzione della rappresentante per la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto. Il monitoraggio e il controllo anche ai fini della prevenzione saranno svolti dai servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e dall'azienda e unità sanitarie locali. Il giorno in cui fui eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'Assemblea legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce. Oggi dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non ci deve essere un algoritmo come spesso viene rappresentato, ma c'è una persona, c'è un lavoratore e come tale deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi. A partire da quelli basilari come penso la salute e la sicurezza sul lavoro. Io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo, una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro, che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata, che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra, gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o sole. E non è così, non è scontato. Noi troppo spesso diamo per scontato e tante cose. In realtà questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti, non so quanto grande o quanto piccolo, ma è un passo avanti rispetto alla tutela del lavoro. E chi si impegna nelle istituzioni dovrebbe porla sempre al primo posto. Ora su questo lavoreremo insieme alla Giunta per dare attuazione, per dare risposte concrete e mi piacerebbe che questa legge potesse diventare un modello non solo in Toscana, ma in tutte le altre regioni d'Italia. È un passaggio importante perché comunque si va a mettere delle norme e soprattutto a costruire delle garanzie e delle tutele nei confronti di una platea di lavoratori, molto spesso giovani, che sono altrimenti senza nessun tipo di garanzia e che si muovono in un ambito assolutamente deregolamentato. Io penso che sia opportuno che le istituzioni si occupino anche di questi ambiti, perché troppo spesso quando parliamo di lavoro ci limitiamo a quelli che sono le categorie più garantite, i lavoratori a tempo determinato che lavorano in un posto sicuro. Ci sono invece delle forme di lavoro nuove, come appunto quelle dei riders, che sono senza regole, senza garanzie, dei quali nessuno si occupa. Purtroppo gli incidenti sul lavoro sono alla cronaca quotidiana anche in Toscana e quindi è giusto mettere mano a questo tipo di ambito e a questo tipo di settore. Come ha spiegato Enrico Susteni, illustrandola all'Aula, la proposta di legge detta disposizioni precise a carico delle imprese. Il punto di riferimento ha spiegato l'ex decreto legislativo 81 del 2008, che detta le linee guida in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e le sentenze della Corte di Cassazione, che assimilano i lavoratori delle piattaforme digitali ai lavoratori subordinati delle altre categorie. Andrea Ulmi ha dato atto alla Commissione Sanità di aver svolto un lavoro estremamente positivo per giungere al testo finale della legge, ma è tuttavia un testo poco convincente, ha spiegato. Questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico, che vada ad analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di sutera sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale, ma troppo spesso non applicati e non concretizzati in questo tipo di lavoro. Quindi aumentiamo questa parte di tutela e prevediamo poi che il sistema di prevenzione delle aziende sanitarie facciano controlli, ovviamente in un'ottica essenzialmente di prevenzione del rischio, ma anche poi controlli sul preciso rispetto di queste normative. Ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge, ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune, cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata. Io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne. Ora, se qualcuno deve avere lo stress da consegne sono per esempio i camionisti, non certo i rider che devono portare una pizza. Voto positivo invece è stato dichiarato dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, da Irene Galletti, del Movimento 5 Stelle e da Stefano Scaramelli, di Italia Viva. La Regione Toscana oggi fa soltanto un passo, che sia piccolo o grande, lo scopriremo col tempo e con i risultati, nella tutela della salute e della sicurezza di chi svolge questo lavoro. Ci ammettiamo un piccolo tassello, piccolo, nella speranza che sia soltanto il primo, a tutelare la salute e la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori rischiosi, perché lo sappiamo tutti, stanno in mezzo al traffico, girano con mezzi leggeri, biciclette, motorini, corrono perché a volte qualche secondo per loro può determinare la riuscita lavorativa di una giornata. Quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei rider. Da un punto di vista del contratto lavorativo, restano con il contratto che avevano fino adesso. Cioè non è che risolviamo il problema, continuano a lavorare a cotti, ma a partita IVA e non certo come lavoratori subordinati. Abbiamo votato a favore, siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti e anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. Le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte. Il Governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogenità, ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro, quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano, a mio avviso deve essere colta in termini molto positivi, è una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. L'atto, illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani del PD, esprime apprezzamento positivo sul lavoro svolto dalla garante e l'impegno a supportare e sostenere effettivamente il percorso intrapreso, volto a migliorare gli standard di efficienza e la capacità di risposta dell'ufficio nei diversi ambiti di competenza. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita con la stessa efficacia di sempre, anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo, addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Un contributo significativo, quello del garante, anche per far fronte alle emergenze che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia, in particolar modo il tema del ricongiungimento familiare, il problema della dispersione scolastica, quella dell'accesso allo sport, quella della tutela delle disabilità. Un'azione efficace per la quale l'Aula del Consiglio regionale ha espresso un parere assolutamente favorevole, ancorché a maggioranza, con due auspici. Da una parte, quello che si va da una riorganizzazione quanto più rapida della struttura di supporto del garante e dall'altra, quella che si va da una riforma della legge regionale istitutiva del garante in linea con i riferimenti e gli indirizzi generali che sono maturati nel contesto delle regioni e delle province autonome con riguardo alle figure di garanzia delle regioni. Francesco Torselli di Fratelli d'Italia nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo ha detto che la garante ha presentato la relazione con due mesi di ritardo. Una relazione che arriva con due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge, una relazione che è tutto tranne che una relazione la dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la regione toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, a fronte di, ripeto, 80.000 euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della regione e tra l'altro mettendo anche, gettando anche una cattiva luce sulla regione toscana, quando in realtà la regione toscana mette a disposizione della dottoressa Bianchi, due persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time, la stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste due persone che già sono messe a sua disposizione nella regione toscana e infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra regione, dovrebbe anche pensare che venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso spese, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano a qui. Se è così stanca di fare il garante, si può dimettere domani mattina e lasciarlo fare a un professionista foscano che sarebbe onorato di ricoprire questo ruolo in regione. Critiche anche da Marco Casucci della Lega. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in commissione, anche in aula ha votato contro la relazione delle garante per l'infante e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto tre funzionari di cui un dirigente, altre due figure di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del garante dell'infanzia. Quindi manca il personale. Non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza, una relazione che sostanzialmente è molto didascalica, piena di buone intenzioni, ma quello che vogliamo per la Toscana sono fatti concreti e di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi. Occorre in ultimo ricordare che il garante per l'infanzia ci costa di rimborsi circa 13.000 euro all'anno e in questo periodo così difficile ci sembra oggettivamente troppo. Difende invece il ruolo della garante e il suo impegno Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. In questo momento l'infanzia, dico anche l'adolescenza, è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. L'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. Credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori ma anche noi come istituzioni. Voto a favore è stato infine annunciato da Stefano Scaramelli di Italia Viva che ha chiesto alla garante l'impegno a lavorare di più perché sentiamo il bisogno di proposte e progetti da attuare da qui alla fine dell'anno e a questi, ha ripetuto Scaramelli, non faremo mancare il nostro sostegno. Giudico in termini positivi un lavoro complesso, quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani che sono coloro e che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia. Un anno complesso, difficile, noi chiediamo di fare misure importanti. Ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che mediante delle leggi si possano istituire in Toscana anche delle luoghi di incontro, delle opportunità, ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro, cioè la relazione, il feedback, iniziative di carattere culturale. Credo che sia stato un anno veramente complesso e credo che noi dobbiamo e possiamo fare di più. In queste ore stiamo facendo un lavoro straordinario. Se penso ai tamponi salivari che abbiamo chiesto per i ragazzi, per gli studenti, la possibilità di eliminare le mascherine all'aperto, alcune attenzioni delle quali i ragazzi hanno effettivamente bisogno si possono e possono fare in questo momento, oltre che ovviamente istituire con delle leggi delle opportunità nuove per rilanciare la loro attività e renderli protagonisti del loro stesso futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.